Questa è una sua invenzione, è stato un suo suggerimento, è grande Beppe Ceccato. E allora, pronti? Vai maestro, andiamo! Beppe! Vai Patry! Il paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono e niente, sono la tua malattia, il paese mio ti lascio e vado via, che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? So far tutto, o forse niente, da domani si vedrà, che sarà? Sarà quel che sarà. Alberto! Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Gianluca! Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Che sarà? Che sarà? So far tutto, o forse niente da, domani si vedrà, sarà, sarà quel che sarà. Alessandra! Vai! Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la morte del mio primo amore. Che sarà? Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Come porto la chitarra, come porto la chitarra, come porto la chitarra, come porto la chitarra e se la notte viaggerò, una legna di paese suonerò. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? So far tutto, o forse niente da, domani si vedrà, che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà? Che sarà? Per voi, frate Marco! E il clanda! Allora, ora! Grazie! Grazie!